Per Digital Divide si intende il divario dell'accesso alle varie tecnologie, prima fra tutte internet, ma non c'è solo internet, poi c'è anche un bel gioco di parole, digital divide, forse ci vorrebbe un punto interrogativo, una delle risposte la diamo oggi a DigiTalk questa sera, sigla. Buon martedì sera, grazie di essere con noi qui a DigiTalk, come sapete è il primo talk show quotidiano sull'universo digitale, allora chi ci guarda spesso già sa che ormai è un tormentone a cui non si può rinunciare. Oggi si parla di Digital Divide, come dicevamo nell'intro, ovvero tutto quel divario che non è solo tecnologico ma culturale che distanzia in sostanza le persone dalle tecnologie. Andiamo proprio a conoscere questo spazio, che cosa c'è in mezzo, quanto ce n'è e scopriremo anche che serve che ce ne sia il meno possibile. Oggi lo facciamo con chi ci può aiutare a capire bene di che divario si tratta e a che punto siamo, insomma, lo stato delle cose. E lo facciamo con Fabio Spagnolo, che è responsabile della provincia di Milano anti-digital divide e che è già stato con noi nella puntata sulla banda larga, dove ci ha parlato già di divario digitale, tra l'altro spunto per cui abbiamo deciso di fare una puntata dedicata proprio al digital divide. Mauro Scarpellini, che è un giornalista specializzato in mass media, che ha ovviamente ottime conoscenze del settore. Luca Conti, che è fondatore ed editor di Block Center Network, ma attenzione, è anche coautore, uno degli autori di DigiTalk. E quindi oggi lui praticamente si iscriverà ai testi da solo. Ecco, non avrà bisogno, non avrà problemi, insomma, nel esprimere quello che è. E Patrizia Bertini, che è dell'EIAO, European Internet Accessibility Observatory, ed è la key person dell'EIAO, quindi la persona chiave tradotto in italiano. Allora, non posso che partire da Fabio Spagnolo, perché Fabio Spagnolo, oltre a rappresentare davvero l'associazione anti-digital divide, ma poi davvero ci crede. Io ho parlato a lungo con lui durante le varie pause di questa trasmissione e anche dell'altra, di quella sulla banda larga. Però davvero, cioè, vi state impegnando molto e avete anche bisogno di aiuto, cioè avete aiutato e avete bisogno di aiuto. Raccontaci come stanno le cose. Sostanzialmente noi stiamo impegnando tutto il nostro tempo libero per venire incontro alle persone che hanno il nostro stesso problema. Cioè, la classica frase, l'unione fa la forza. E questo è il vero momento di dirlo. Cioè, noi sostanzialmente siamo martellati di telefonate da sindaci, da utenti, abbiamo un forum che ormai è ricchissimo di gente che... Dopo digital cancora di più, magari. Sì, sì, sicuramente. Ci sono stati commenti positivi, tutto quanto, quindi... Insomma, voi vi occupate, lavorate, perché da una parte cercate di sensibilizzare comuni, governo... Ma i comuni, da questo punto di vista, sono già... Sono loro che vogliono. Esatto, perché sono addirittura pressati dagli stessi cittadini. Certo. Quindi pressano noi, però, per quello che possiamo fare. E come tra l'altro ci siamo visti, l'ho puntata sulla banda larga, l'abbiamo fatta pochi giorni dopo, mi sembra di ricordare, il decreto Landolfi, no? Per la liberalizzazione. Cos'è cambiato in queste settimane? Ma sostanzialmente adesso c'è stata finalmente la liberalizzazione, perché dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è iniziato realmente qualcosa. Sostanzialmente ci sono stati pregi e difetti. Io ne ho vissuto uno di difetto, proprio dove abito io, sostanzialmente. Sì, adesso c'è la possibilità di avere Wi-Fi, ad esempio all'autogrill, ma non nel paese. Ah, non nel paese. Quindi è la classica cosa che... Vabbè, però, insomma, ci siamo quasi, no? Si spera, soltanto che, sinceramente, questo è proprio un momento di scollamento, nel senso che siamo abbastanza delusi, perché negli ultimi tre mesi, ad esempio, non c'è stata assolutamente, o quasi per niente, copertura. Copertura in che senso? Copertura di ADSL, allargamento della copertura. Sì, certo, certo. Io ho amici nel pavese, che... nel pavese, voglio dire, non... Beh, io sono in provincia di Milano, quindi... Ecco, ecco. Nell'odigiano è completamente vuoto. ADSL, tra l'altro, dicevo, ma fatti attivare uno, non so, uno dei vari Sky, ADSL o altri sistemi del genere, non lo so, insomma. Sì, satellitare non è proprio la... Satellite, eccetera. Però è asincrono, allora diceva, sì, ma io poi pubblico contenuti, comunque continuo a uscire col modem, è una tragedia. E questo amico è nato, mi ha sollevato, perché non lo sapevo, io lo sento spesso, ma parliamo di internet, eccetera. E a un certo punto gli ho detto, ma lo vedi, Digitalk? Guarda, in realtà no. Perché? È perché non ho possible modem, vado a 33,6, ma quello è proprio... A meno un 56k a comprare. Eh, ma quello paradossalmente, a prescindere dal discorso... adesso forse ci sono delle offerte flat, che comunque fanno discutere, flat sul 56k, sugli SDN, però comunque è sempre un bel problema, perché comunque penso ne parleremo anche dopo. Sicuramente c'è un problema di accessibilità e di spopolamento, ad esempio, in alcune zone, quindi non potendo avere questo tipo di servizio. Alcune zone, ad esempio, perdono i giovani. Se ne vanno? Se ne vanno. E in alcune zone, tipo la mia, facciamo un esempio, i giovani arrivano perché costano di meno le case, però non hanno servizi. Incredibile. Mauro Scarpellini, qual è la... ci diamo tutti del tu qui. Oggi è una puntata tu, eh? Così non ci... ci avviciniamo un po' e diamo una mano al Digital Divide. Diamoci del tu. Mauro, qual è la tua visione sul Digital Divide? Perché prima di iniziare la puntata mi hai dato un'idea di quello che avresti detto e mi piace molto. Sì, diciamo che il Digital Divide che esiste è il capitolo forse più a la page, diciamo più attuale, di una problematica, di una questione che invece è molto più antica, è molto più importante e di dimensioni molto più rilevanti, che è quella dell'accesso alla conoscenza. Prima dell'accesso alla tecnologia c'è l'accesso alla conoscenza. Mi spiego, ha senso, mi spiego con una domanda, ha senso dare un computer a un pastore che non sa né leggere né scrivere? Una domanda che rivolgo anche ai miei colleghi qui. Beh, una domanda che è molto interessante, adesso non ti voglio interrompere, ti faccio finire come, ma poi tra l'altro si parlerà del computer a 100 dollari di Negroponte e forse è una domanda molto adatta, no? Quel tipo di computer. Allora, se noi impostiamo il problema in questa prospettiva, il Digital Divide non è una issue che divide, che contempla la divisione fra nord e sud, che coinvolge il nord e il sud del mondo, come comunemente si dice, ma all'interno della stessa Italia, che è considerato un paese postmoderno, postindustriale, comunque fra le prime dieci economie del mondo, esiste questa discrimine. In Italia solo 6 milioni di persone leggono i quotidiani, c'è un analfabetismo di ritorno che è impressionante. Allora, capite bene che già solo nel nostro paese parlare di Digital Divide significa, ripercorrendo la catena di ragionamento, arrivare a dire alle persone, leggete dei libri e poi aprite il computer. Ma prima, cercate di avere una scolarità di base che sia rilevante e poi aprite anche il computer, è evidente. Molto bello quello che stai dicendo. Certo è che per... forse non è colpa solo di chi... cioè voglio dire, è colpa a volte anche di una struttura di anni di... non è solo colpa di chi poverino non sa leggere, insomma. No, se io ho dato questa impressione ho comunicato mai, evidentemente non è colpa di chi non ha la conoscenza. No, voglio dire, dire perché non leggete a quelli che non leggono... è difficile che iniziano a leggere per questo. Esatto, evidentemente questo era uno slogan, come dire, una piccola provocazione, una parola d'ordine buttata lì solo per sintetizzare e sottolineare... Ecco, no, no, ma ce l'ho capito perfettamente, ci mancherebbe. Perché dietro c'è un problema di scelte politiche governative, di distribuzione delle risorse, è un problema immenso dove, faccio un esempio, se solo oggi il governo di destra e di sinistra non importa, facesse la scelta di lavorare per ridurre a questo gap della conoscenza fra i cittadini e fra il nord e il sud del paese ci vorrebbero penso solo 10-15 anni. Certo. Beh, ad esempio, il prescindere appunto anche qui da destra e sinistra, però è l'unico ministero, perché non c'era prima dell'innovazione tecnologica di stanca, beh loro si sono concentrati molto, no? Cioè il ministro si è concentrato molto sul, molto attento sul divario digitale, sul risolvere... Sì, adesso non vorrei passare per parlare mai del governo Berlusconi, per l'amor di Dio, ma è evidente che rispetto alle parole d'ordine, chiamiamole così, no? No, pronunciate in campagna elettorale, le famose tre I, tre E, no? Erano I. Le I, scusami. Le famose tre I, poi nei fatti si è fatto ben poco, ma forse probabilmente non è colpa del ministro, perché il ministro si trova ad agire in base al portafoglio che ha, le risorse che ha. Non ce l'ha il portafoglio, è il ministro, è un ministero senza portafoglio, ce l'ho il ministro. Allora ancora peggio, cioè è evidente che se il governo Berlusconi o il governo vatte la pesca, ripeto, non voglio fare in questa sede una... No, no, è chiaro, anche perché, certo, iniziasse... Perché nel governo precedente eravamo... Appunto, nel governo precedente eravamo... Ma se un governo si destra veramente, tra queste parole d'ordine, dovrebbe destinare una quantitativa di risorse ingenti che probabilmente, tenendo conto dei parametri di Mastri, tenendo conto della crisi economica, sarebbe forse un po' difficile far quadrare il cerchio. Ho capito. Natrizia Bertini, tra le tante cose, hai innanzitutto un tuo parere sul problema, il digital divide, eccetera, ma velocemente, volevo magari che rispondessi a Mauro Scarpellini sulla questione dell'alfabetizzazione, no? Perché l'alfabetizzazione è importante, quindi siamo d'accordo con lui. E magari anche qualcosa sul computer da 100 dollari di Negroponte. Ok, perfetto. Andando con ordine, sicuramente l'alfabetizzazione è fondamentale, fondamentale nel senso che... avere gli strumenti minimi indispensabili per poter manipolare agevolmente le nuove tecnologie è basilare. Ricordo sempre che viviamo nella società dell'informazione, viviamo in un'epoca in cui l'informazione è il vero valore, quindi tutti hanno bisogno di poter accedere a questa informazione e la conoscenza, la base. Non possiamo pretendere che tutti siano microingegneri e abbiano la capacità di gestire un computer con le varie finestre grigie che si aprono con messaggi più o meno allarmanti. Questo fa sì che il gioco chiave dell'accessibilità sia quello, rendere facile anche a chi non ha una scolarizzazione elevata, anche a chi non ha gli strumenti tecnologici avanzati, non ha l'ultimo computer, poter gestire l'informazione ed accedere alla società dell'informazione, accedere ai servizi, accedere a tutto quello. Quindi da un lato c'è sicuramente bisogno di maggiore scolarizzazione, dall'altro c'è bisogno di lavorare anche sul lato culturale e tecnologico di chi sviluppa le applicazioni. Proprio per questo, parlando anche del computer da 100 dollari che è stato presentato durante il convegno di Tunisi, una società americana, una ONG, un'organizzazione non governativa chiamata Learning Enterprises, opera proprio su questi due fronti per esempio. Dal 92 fanno formazione, istruiscono i ragazzi sia all'inglese che alle nuove tecnologie, perché ovviamente l'inglese è l'inguaggio delle nuove tecnologie. Lo fanno in Messico, lo fanno in Cina, lo fanno alle Mauritius, lo fanno in moltissimi posti del mondo e stanno acquistando proprio i computer da 100 dollari da poter portare come strumento di lavoro e di formazione nelle loro attività. Cerchiamo di spiegare, immaginiamo di avere dall'altra parte delle telecamere qualcuno che non ha capito bene come mai, cioè capisce l'atteggiamento filantropico, del voler distribuire la conoscenza eccetera, questo è facilmente comprensibile. Secondo me è meno comprensibile macroeconomicamente l'importanza di quel tipo di alfabetizzazione, io sono sicuro che tu ci puoi dare una mano a spiegarlo. Ma è molto semplice, io non voglio fare l'accademica ma si parla di società dell'informazione dagli anni 70, quando Bell, un economista americano, iniziò a teorizzare lo spostamento della prospettiva economica dalla creazione fisica di qualcosa alla conoscenza. Tanto è che negli Stati Uniti si investe molto in ricerca, in Europa purtroppo, in Italia soprattutto purtroppo no, ovvero il vero valore economico non è più dato da cosa produco ma da quanto so, perché è la conoscenza che mi permette quindi di produrre, di progredire, di avanzare e la conoscenza è la base di tutto, della nuova economia. Grazie, era quello che cercavo, esattamente quello che volevo che tu ci aiutassi a capire. Ancora una domanda, ecco, nell'estensione quindi di questa teoria che oggi è ben più che sperimentata, nei nuovi media, e in particolare in internet che ha bisogno di un hardware che è il computer, ma non è l'unico, ma voglio dire prevalentemente il computer, ecco, perché quindi questo, giusto per completare il discorso, perché è ancora più importante nella società dell'informazione informatica, nel senso proprio della tecnologia? Diventa importante perché potenzialmente le tecnologie, internet, ci permette di accedere all'informazione da qualunque posto, ovunque noi siamo, possiamo essere in Burundi e leggere il quotidiano nazionale, possiamo essere ovunque e avere accesso finalmente a una molla di informazione tale che solo dieci anni fa era impensabile. A maggior ragione quindi nessuno non ha più gli strumenti tecnologici, tranne i casi di cui Spagnolo poi ci parlerà, per poter accedere alle informazioni. Serve riuscire a portare a queste informazioni gli strumenti cognitivi e tecnologici a... Anche in Africa, dove non hanno la corrente elettrica in alcuni posti, infatti il computer centrale e la manovella, no? Esattamente, esattamente. Questo può aiutare a creare una nuova classe dirigente del futuro, che abbia degli strumenti nuovi, che possa partire dal computer a manovella e risollevare magari le sorti degli stati, perché possono finalmente accedere a delle conoscenze. Che è la famosa differenza tra diamogli pesci e insegniamogli a pescare. Bene, ora noi facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi rientriamo con Francesca che ha delle cose da dirci. A tra poco. Vedi l'erba Senti il vento Vedi il mare Senti il sale Vedi i bambini Senti le risate Nuove stampanti Epson Foto Foto da vivere Non solo da guardare Mamma 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 Vieni Guarda Parla già È iniziate una nuova era Vuoi che ti dia qualche informazione? Il nostro sito parla Speakage.com The new age of the spoken web Grazie di essere ancora con noi come promesso Francesca ora ci darà qualche informazione e qualche curiosità Francesca Sì Marco ho trovato che secondo i dati dell'Unione Europea l'Italia ha il tredicesimo posto in Europa per la copertura delle aree rurali con collegamenti a banda larga Tra l'altro che è generamente inferiore al 40% della popolazione residente in queste aree Poi c'è una curiosità per quanto riguarda sempre il digital divide ossia che i cittadini di Tauville devono ringraziare il proprio concittadino sia Valentino Rossi Che per essere perché sono potuti uscire dal divario digitale grazie al contratto di diciamo di Rossi con un non so se possiamo dirlo con una società telefonica Che ha incluso come condizione l'accesso veloce per la città Poi un'altra notizia interessante è che Telecom Italia ha recentemente aggiornato la lista dei comuni italiani che entro il 2006 potranno godere dell'HDSL Che è l'offerta di accesso asimmetrica per cui i comuni interessati sono circa 2000 Questo fa ben sperare Quanti sono spagnoli a 2000 comuni? Pochi? Luca Conti eccolo qua non abbiamo il pubblico però da casa stanno applaudendo e anche dal mobile da quello che ci guardano Luca Conti ne sa ne sa molto perché voi non lo sapete perché poi alla fine sono io che mi prendo sempre tutti i meriti ma qua ci sono un mucchio di persone che lavorano al programma tra cui anche Luca Conti Che fa l'autore questo cosa vuol dire? Un programma come questo far l'autore non vuol dire scrivere nel dettaglio quello che io dico o quello che dicono gli ospiti Significa scrivere tracce che poi ci aiutano ovviamente a intessere insomma il talk e quindi la conversazione E lavora sodo come tanti altri ma insomma ecco per piegarvi che cosa fa Luca Conti Per cui tutti gli argomenti che abbiamo trattato durante queste scorse 40 puntate ecco lui ne sapeva più o meno perché poi non è l'unico a scrivere però in buona parte ne sapeva E ora un'altra prova Luca per me Digital Divide Dici che cosa ne pensi Digital Divide è un problema che riguarda noi cittadini italiani che magari non abbiamo il collegamento ADSL che ci può servire per usufruire di tanti servizi E magari anche di lavorare su internet con le nuove professioni di cui tratteremo in una prossima puntata Però è un problema globale Qualche numero che è venuto fuori dal recente summit di Tunisi è impressionante 40 paesi africani hanno come banda in uscita per collegare tutto il paese ad internet 10 megabit al secondo Quello che un utente con la fibra ottica in Italia può avere dalla sua utenza privata E tutto il Giappone ha la banda per collegarsi quanto tutta l'Africa intera Questo è significativo di come ancora nonostante siamo nel terzo millennio Nonostante c'è quasi un miliardo di cittadini del pianeta Terra che sono collegati a internet Però molta strada ancora c'è da fare Oggi non ti sei connesso tanto a internet perché sei venuto qua E per questo sei stato poco attento La puntata sull'informazione è domani No scherzo Quella sulle nuove professioni Quella sulle nuove professioni no Ah hai detto quella sulle nuove professioni Mannaggia sono diviso io allora Mamma mia Senti Luca Allora beh certo certo è così ed è un grave problema Io guardo sempre spagnolo perché lui annuisce ogni volta disperato su questa situazione Ecco ma perché la domanda è banale Ma perché è così difficile Sempre la domandina quella che uno magari non ha capito bene Portare la banda larga Cioè uno dice bene il mercato si fonda no Si basa sull'offerta la domanda Ecco ma e quindi la domanda c'è Perché la domanda Miseria la gente la vuole Allora come mai il mercato non riesce a star dietro alla domanda Cosa è successo cosa sta succedendo Lo chiedo ancora Luca Conti È un problema di considerare l'accesso a internet come un servizio universale Perché se noi consideriamo avere la possibilità di collegarsi a internet Quindi per telefonare per divertirci ma anche per lavorare Perché anch'io sono un esempio in questo senso Perché ho lavorato negli scorsi mesi per Google grazie al collegamento a internet Che era uno dei requisiti necessari per poter accedere a questa posizione Per cui chi non ha il collegamento a internet veloce non poteva poter partecipare a quella Ecco la domanda in realtà era come mai magari la faccio a spagnolo Però mi hai sollevato un'altra cosa A proposito di visione Io quando sono salito negli studi oggi Luca era già qua Io noi lavoriamo da tempo insieme perché abbiamo da tempo in tempo televisivo ovviamente Quindi da qualche mese che però sono tanti perché abbiamo fatto tutte queste puntate E io non lo conoscevo Avevo visto una volta il suo viso in un videocast che aveva mandato Però poi non lo conoscevo E quindi pensavo che un ospite si fosse infiltrato e fosse salito Oltre le nostre Perché qui siamo all'ultimo piano Quindi oltre le nostre regole normali E allora ho detto sono andato in produzione Ho detto ragazzi qua c'è un ospite su che sta girando nello studio Dice ma chi? Ma sì ma gli occhiali eccetera Ma è Luca Conti Oh misere Luca Conti Adesso glielo devo dire che non l'ho riconosciuto Ecco questo per dire che effettivamente è vero Cioè noi abbiamo lavorato a distanza Senza internet Senza la possibilità di connettersi Non sarebbe stato possibile Non sarebbe stato possibile Ma non solo Visto che parliamo di Digital Divide Anche di Digital Divide inteso come banda passante a disposizione Se non avessimo avuto la banda che tu hai Dove abiti e io che ho Certo non avremmo potuto In Milano insomma non avremmo potuto Perché il video non potevamo inviartelo Perché eccetera eccetera Ecco ma perché è così difficile la domanda di prima Distribuirla? Come mai non si riesce ad arrivare? Ma il difficile è sostanzialmente questo Nell'altra puntata dove si parlava di banda larga Mi aveva accennato Gio Marino Sostanzialmente il problema grosso È portare della fibra o comunque della banda Fisicamente nelle centrali telefoniche Di ogni paese E poi distribuirle Ha un costo Questo costo ovviamente deve rientrare Ovviamente con la gente che paga questo servizio Se sono pochi non conviene Se sono pochi non conviene O comunque se sono un tot Tra virgolette Il rientro economico è troppo a lunga scadenza Il troppo tra virgolette è relativo Nel senso che per alcune società è troppo Poi facendo dei calcoli fisicamente In realtà non è poi così tanto Perché l'ammortamento in alcuni casi Addirittura avviene in uno o due anni A dire tanto Che una società privata tendenzialmente Potrebbe anche benissimo affrontare E avere un parco clienti anche superiore Soltanto che ci sono già dei problemi di deficit Di queste società E quindi? E quindi di conseguenza Non si può aumentare questo deficit Ho capito In più c'è anche Questo è il problema Ma quindi come risolvere insomma Visto che le aziende non possiamo mica Il discorso dell'esempio Ad esempio L'apertura del wifi Poteva essere una possibilità Al posto di scavare Portare via wireless direttamente queste cose Soltanto che ancora nulla si muove Ci vuole Il problema è la volontà Spiegami perché Nulla si muove Perché in realtà È stato liberalizzato il Wi-Max No? Poi alla fine Sì però Un po' il Wi-Max Nel senso che No aspetta Tecnicamente sì Ma è il Wi-Max Nel senso che L'utente non può ridistribuire La propria connettività Quello sì Questa è In questo senso Dico è stato liberalizzato il Wi-Max Cioè comunque È centralizzata La possibilità di distribuire No? Sì Comunque bisogna fare L'apertura di una società Di una società Cioè altrimenti Non è possibile Ma quello Da questo punto di vista È anche giusto Il problema è che Ad esempio Molte società Si crogiolano Negli allori Sostanzialmente E rivendono dei prodotti Che la società Ex monopolista Che in realtà È stata dichiarata Poco tempo fa Dall'Agicom Monopolista 100% Per quello che riguarda Il doppino telefonico Cioè il rame Che arriva Propriamente a casa C'è stata una polemica No? Con Prodi Ultimamente C'è stata proprio Una polemica Lì soprattutto Per quello che riguarda Le garanzie Non soltanto Riguardante La monopolista Sulla telefonia Un po' in generale Sulle ex monopoliste L'unica ovviamente Ha risposto Utilizzando una pagina intera Di uno tra i giornali Quotidiani nazionali Più diffusi È stata appunto Telecom Italia Alcuni Non Telecom Italia Ma alcuni dirigenti Diciamo Alcuni soci del CDA Dicendo che non è vero Che hanno un atteggiamento Monopolistico Secondo te? Ma noi abbiamo espresso Anche noi Ovviamente la nostra opinione E da questo punto di vista Difendiamo ciò che ha detto Prodi Nel senso che Noi siamo totalmente Apolitici Non ci interessa La politica Ci interessa soltanto Chi fa le cose Però Prodi ha toccato Un vaso di Pandora Che sostanzialmente È il sistema delle garanzie In Italia Per quello che riguarda I monopoli O gli ex monopoli Diciamo Facciamo l'esempio Da quando c'è stata La privatizzazione Di Telecom Italia A conti fatti La maggior parte dei territori O alcuni Molti territori Hanno ancora un unico operatore A disposizione E questo Secondo noi È possibile Ma anche solo di telefonia Non si parla solo di DSL Spieghiamo perché Spieghiamo perché È importante Cioè rispetto al nostro Tema principale Che problemi crea un monopolista È un monopolista Che sostanzialmente Decide lui Cosa fare Cosa non fare Sostanzialmente A nostro modo di vedere Non portare Non consentire L'utilizzo di DSL In territori Attualmente digital divisi Significa comunque Guadagnarci Sul discorso Del canone telefonico Sulle utenze telefoniche Perché Paradossalmente Gli utenti di quelle zone Potrebbero acquistare Una DSL Magari non Dalla stessa Telecom Italia Da altri provider E metterci ad esempio Il VoIP Del quale avete fatto Una puntata Ecco però Non saranno certamente Io faccio l'avvocato Del diavolo Anche perché Non saranno certamente Le zone Oggi divise Quindi Probabilmente Economicamente Culturalmente Meno Come dire Avanti Che utilizzano La DSL Utilizzeranno probabilmente La DSL Per usare VoIP Cioè è difficile Che la signora Non ne sono convinto Nel senso Ci sono due tipologie Di paesi digital divisi Ossia quelli spopolati Dove c'è una popolazione Tipicamente anziana Oppure quelli Che non userà mai VoIP Che esatto E' molto difficile Che comunque Ti utilizzi Anche se adesso Esistono Sistemi facili Attacchi Di accessibilità Con il telefono Normale E quindi è una cosa Abbastanza interessante Però da un'altra parte Ci sono cittadini Facciamo l'esempio Della mia O in altri Di nostri consociati Di nostri utenti Diciamo Del nostro sito Dove la maggior parte Della gente Sono giovani Sono gente Ben o male E quindi utilizzerebbero Eccetera Beh insomma E' solo quello il problema E' solo la paura Del VoIP No No forse no Sinceramente non lo so Una spiegazione univoca Non esiste Nel senso che Rimane Però è un problema Esatto Io continuo a dire Che è una tripla Uno e due Quindi Però vabbè Che voi comunque State cercando Che se ne pensi Luca? Ma i paesi Soprattutto del sud Del nostro paese Sono quelli Insieme anche Alle periferie Delle grandi città Che non hanno ancora La possibilità Di godere Di questi Collegamenti L'intervento pubblico C'è stato Perché anche Grazie al ministro Dell'innovazione C'è stato il contributo Per collegarsi A internet Con la banda larga E anche Il computer Per i giovani Però di fatto Questi interventi Non hanno risolto Il problema Del divario digitale Per quelli che sono Al di fuori Di queste possibilità C'è stato Si è parlato Anche qualche mese fa Di Infratel Di una società Con capitale pubblico Per investire Dove gli operatori Del settore Telecom Italia E altri Non ritenevano Economico Vantaggioso Dal punto di vista Economico Investire Per cui Questo deve fare Il governo E lo Stato Investire direttamente Per portare L'accesso Dove gli operatori Credono non sia Economicamente Vantaggioso Purtroppo Però di Infratel Non abbiamo avuto Più notizie Certo Ci sono anche qua In Lombardia Ad esempio La regione Lombardia Ha fatto un bando Ad esempio Per le zone Obiettivo 2 E le aree a sostegno Transitorio Addirittura Secondo me è stata Un po' Prevegente Nel senso Che Aveva Già Lasciato libera La strada Per i wifi Quando ancora Non era Stato liberalizzato Ed esattamente In quel periodo È stato liberalizzato Mauro Scarpellini Ma io sono d'accordo Con Luca Conte Insomma C'è il libero Accesso Al funzionamento Del mercato Per l'amor di Dio Ma lo Stato Comunque deve intervenire Ogni qualvolta Gli attori di mercato Giudicano Non utile Investire In determinate zone Oppure lo Stato Deve intervenire Quando si creano Dei Dei nodi Che sono i famosi Monopoli O Vediamo Dall'altro punto di vista Le mancate liberalizzazioni Che poi sappiamo Hanno delle ricadute Negative Su noi consumatori Lì purtroppo Se non interviene Nello Stato Chi Chi interviene Volevo aggiungere Un'altra cosa Sul Sul problema Sul rapporto Fra nuove tecnologie E impresa Che in qualche modo Era stato sollevato Prima Sì Oltre al problema Del 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 fatto che La DSL Non 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 raggiunge In maniera omogenea Tutto il territorio C'è anche un problema Culturale Delle aziende Soprattutto Delle PMI Perché è inutile Che ci geriamo attorno Tutti i forecast Delle più importanti associazioni Sottolineano Questo problema L'EPMI Ma forse è un problema Anche più generale Considerano 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 la comunicazione Non come un investimento Ma come un onere Come un costo Questo la dice lunga Certo Patrizia Bertini Io ho la mia prospettiva Diversa Ovviamente Da quella degli altri relatori Io continuo a dire C'è gente che vorrebbe Alle tecnologie Vorrebbe poter Partecipare Ai servizi E alle informazioni Ma le tecnologie Vengono utilizzate In maniera Scriteriata Ovvero Non mettendo al centro L'utente Progettando E programmando servizi Che l'utente Non sa utilizzare Per cui È bellissimo Ed è utilissimo Riuscire a portare La banda larga A tutti i cittadini Ma non dimentichiamoci Che tra questi cittadini Che possono avere E hanno la banda larga C'è una fetta Che ha bisogno Di un minimo di attenzione In più Per non restare Digitalmente diviso Esattamente come Chi non ha la banda larga Oggi Certo Perché ad esempio Vodafone Ha fatto questo telefonino Esattamente Che è bellissimo L'ho visto funzionare Fantastico Al tastone Accendi Spegni Invia Con i tasti grossi Il volume è altissimo Esatto Però è divertente da avere Se non fosse che ho bisogno Di un mucchio di altre funzioni Lo comprerei No Sono esattamente questi Gli strumenti Che ci permettono Di colmare Il digital divide Sono tutti questi Che sono poi figli Di provvedimenti americani E europei Proprio per promuovere La società dell'informazione In un'ottica globale Saluto Fabio Spagnolo Stavi dicendo No stavo dicendo sostanzialmente È vero Però sostanzialmente Abbiamo sempre visto Un'evoluzione Che la tecnologia Sta cercando di venire Sempre incontro All'utente Non sempre succede Però facciamo l'esempio Dei pc Prima c'era Una cella sostanzialmente Dossa Adesso Adesso c'è il mouse Grazie Fabio Spagnolo Che ricordo Di essere responsabile La provincia di Milano Dell'anti digital divide Grazie anche a Mauro Scarpellini Che è un giornalista specializzato Ricordo in mass media Ma che ci ha anche dato Una visione diversa Sul digital divide È molto interessante Luca Conti Che è autore di digital Che è fondatore ed editor Di blog center network E Patrizia Bertini Che è dell'EIAO Che è questo scioglilingua Che ogni volta Mi consentirai di sbagliare Perché è naturale Che è in sostanza L'acronimo The European Internet Accessibility Observatory E tu sei la key person Mi fa ridere EIAO ogni volta Perché mi viene in mente Tiziano Che è sardo E che qua con la telecamera Mi sta inquadrando in questo momento E quando dico EIAO Lo vedo sorridere Ma io Certo Ringrazio anche Francesca Io vi saluto Ci vediamo domani Con una nuova puntata Di Digital Sempre alle 23 E sempre sul sito Digital.tv In replica ogni mattina Alle 8.25 Su ITV Canale 817 di Sky Arrivederci Buona serata